e io ringrazio l'ospite di oggi che si chiama micole giusto corretto e niente lei mi ha scritto tu mi hai scritto qualche tempo fa perché mi avevi proposto di raccontarmi la tua esperienza in particolare con la diagnosi di adhd giusto però poi mi hai detto che c'hai altre diagnosi adesso mi racconterai e ovviamente nel limite di quello che tu vuoi dirci sarà una testimonianza che potrà insomma farci capire un po meglio però ti lascio presentarti micole dici quello che vuoi di te e poi partiamo allora buonasera a tutti sono micole ho 30 anni sono una tatuatrice e gestisco anche un bar e sono una persona autistica e dhd ho scoperto queste mie condizioni recentemente rispetto ad altre diagnosi che invece mi accompagnano scusate diciamo da più tempo e scoprirle mi ha mi ha cambiato la vita la prospettiva comunque della mia vita è molto cambiata e nonostante comunque sia appunto il mio approccio alla psicologia la psichiatria risale alla mia infanzia scusami non c'è proprio un marco sì 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 no stavo cercando di togliere casino mio quindi stavi dicendo che tu hai avuto un percorso quindi di vita caratterizzato da più diagnosi psicologiche sì 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 ok qual è stata la prima? sì allora essendo io del 92 comunque sia ai tempi diciamo che la condizione sia dell'autismo che anche della dhd non era mai associata alle donne alle ragazze comunque alle persone assegnate femmine alla nascita quindi la prima diagnosi che ho ricevuto tra l'altro sbagliata anche per le tempistiche perché come saprai la diagnosi di schizofrenia non solo deve avere una familiarità molto forte ma si fa comunque sia di sicuro non a nove anni otto anni quando quindi tu a nove anni hai avuto una diagnosi di schizofrenia sì come sei arrivata ad avere questa diagnosi? allora ti spiego praticamente le diagnosi che poi sono conseguite che sono quelle che erano quelle anche reali perché comunque sia nonostante appunto io sia autistica dhd sono anche ossessivo compulsiva e diciamo che questi pensieri intrusivi dovuti al disturbo ossessivo compulsivo ma anche alla dhd perché comunque sia avere un pensiero comunque molto più veloce e anche arborescente rispetto alle persone tipiche che fa sì che si inneschino ancora più ansie e paranoie se vogliamo unito al fatto di essere molto letterale quindi da piccola io mi ricordo proprio questo stato di confusione nel non capire in che mondo io vivessi proprio letteralmente cioè questo già a partire da quindi da nove anni o anche da prima? sì da sempre ma io fino dai tre anni ho iniziato con le domande esistenziali proprio perché io avevo bisogno di un quadro di capire tipo che domande facevi? scusa se ti interrompo che sono curiosa ma anche appunto cosa succede dopo la morte? dove si va? perché gli animali sono meno importanti degli esseri umani? e ai bambini solitamente vengono date risposte sommarie, superficiali che non soddisfano la vera domanda e tutte queste domande insieme unite al fatto magari anche del mio senso di giustizia no? e di colpa se vogliamo hanno innescato una serie di pensieri intrusivi che protratti nel tempo hanno portato poi a una psicosi che quindi mi ha provocato delle allucinazioni sonore uditive scusa e solo questo ha portato alla diagnosi di schizofrenia nel senso questo episodio ma che come saprai le psicosi possono portare allucinazioni non è detto che uno sia una psicosi schizofrenico quindi tu hai avuto un episodio psicotico all'età di nove anni sì, otto anni e mezzo hai sentito dei suoni che non erano reali sì, sì sì, mi ricordo proprio anche che sì, sentivo suoni che non erano reali e forse avvidi anche qualcosa ma soprattutto le compulsioni erano diventate più che le compulsioni le ossessioni che per ora erano sposate anche in compulsioni ma mi avevano portato a uno stato proprio di disconnessione con la realtà perché ti spiego in quel caso specifico le ossessioni che avevo riguardavano appunto questo mio senso di colpa che è un mio trigger che ho sempre avuto che ho tutt'ora e quindi diciamo che il pensiero intrusivo che avevo era di dover dar da mangiare ai pelus quando io sapevo benissimo che i pelus non fossero reali però questo pensiero non mi mollava e se non lo facevo mi sentivo in colpa ma immaginate comunque a nove anni avere dei pensieri simili che non ti spieghi e che ti fanno sentire pazzo perché comunque sia dicevo ma ti pare che devo pensare a queste cose che devo fare queste cose quindi gli altri vedendoti dall'esterno pensavano che fosse un'allucinazione cioè che tu vedessi poi dopo questo periodo è durato un po' diciamo e dopo è sfociato in questo periodo in questo ma episodio psicotico che è durato forse un giorno da lì diciamo che c'è stata questa diagnosi completamente infondata a cui per fortuna i miei genitori essendo comunque persone ma come si sono accorti i tuoi genitori che insomma qual è stato un episodio che ha tirato attenzione allora il primo forse episodio prima di questo psicotico fu un meltdown che ebbi a scuola all'elementare un meltdown contestualizzo un attimo è diciamo un episodio che hanno spesso le persone neurodivergenti autistiche nello specifico che è causato da un sovraccarico sensoriale o emotivo nel mio caso era emotivo ma anche sensoriale perché comunque sia a scuola io ero quasi sempre in sovraccarico comunque sia erano gli input erano troppi tantissimi e questo meltdown fu seguito da uno shutdown quindi io poi andai tipo in una specie di stato catatonico dove non parlavo più ero cianotica le maestri spaventati giustamente chiamarono mio padre che mi portò alla Stella Maris che è il centro diciamo ancora un centro molto famoso qui in Toscana dove appunto mi seguirono per un po' e dopo arrivò questa diagnosi che per fortuna appunto fu scontestata perché non era non era giusta dopo mi preso in carico ma tu capivi cioè cosa avevi capito a nove anni di questa diagnosi avevi capito che c'era qualcosa che non andava assolutamente sì solo che io capivo di essere diversa non capivo perché mi ritrovavo in questo contesto dove comunque sia gli altri bambini erano quasi tutti bambini con ritardo cognitivo diversissimi da me quindi io non capivo cosa mi fosse successo cosa cosa non andasse in me anche i miei genitori cercavano di spiegarmelo però in realtà non sapendo nemmeno loro che io fosse neurodivergente all'epoca le spiegazioni non mi soddisfacevano mai spesso mi dicevano sei troppo intelligente ma che risposta è nel senso non giustifica tutti questi pensieri perché ho tutti questi stati d'animo il mio sentire differente e quindi sicuramente lì si innescò diciamo la la vergogna cioè il voler nascondere questa cosa non sapermela spiegare e quasi volerla accantonare in una in una parte della mia mente anche se ovviamente era impossibile perché io comunque sono stata seguita e sono tutta seguita ma appunto tu hai preso farmaci ai tempi per la schizofrenia sì sì assolutamente infatti mi addormentavo a scuola non era facile comunque sì anche nei confronti degli altri bambini poi successe che in quinta elementare mi confidai con una una mia compagna di classe su questa cosa lei lo disse a tutti e da lì partì proprio il bullismo vero e proprio perché proprio dire vai alla stella Maris disse che eri schizofrenica però i bambini magari non sanno bene andavo alla stella Maris perché la stella Maris ai miei tempi era sinonimo di sai insulti abilistiche che c'erano negli anni 90 e purtroppo che c'erano ancora però nessuno ovviamente capiva la diagnosi dal punto di vista nemmeno le maestre no poi vabbè la diagnosi schizofrenia in realtà fu subito accantonata e poi per Mase quella di ansia depressione disturbo ossessivo compulsivo ok che comunque sia le maestre sapevano e tutto però non capivano fino in fondo nel senso erano anche altri tempi c'era molta meno informazione a riguardo io non conoscevo nessun'altra persona ovviamente della mia età che avesse un trascorso simile quindi mi sentivo un alieno veramente poi crescendo ovviamente anche alle superiori così questi argomenti si sono anche un po' slocarati e ho conosciuto altre persone e mi sono anche sentita se vogliamo un po' una bellina bianca però al tempo come la vivevo io ero sicuramente così e quindi diciamo per quanti anni sei andata avanti senza avere perché tu hai parlato di altre due diagnosi quindi di autismo e di ADHD e quando sono arrivate queste diagnosi? allora queste diagnosi sono arrivate due anni fa più o meno ok quindi fino ai 28 anni sei andata avanti senza queste diagnosi quindi hai sempre avuto le diagnosi però di ansia depressione e cosa chiedete scusami? compulsivo ok e poi vabbè ho superato anche gli attacchi di panico non mi sono fatto mancare niente però e questi come li hai curati tutti questi esperti? allora ai tempi ho preso diversi farmaci anche per gli attacchi di panico eccetera non non mi facciano nemmeno molto per adesso anche tuttora prendo uno come si dice uno stabilizzatore della serotonina semplicemente e e niente e sei riuscita a condurre una vita comunque normale nel senso sei riuscita a diplomarsi a lavorare sì sì sono diplomata sono anche laureata all'Accademia di Belle Arti il problema più grosso è stato sicuramente l'adolescenza in cui appunto non capendomi rifiutando comunque per dei periodi ho rifiutato le cure anche perché comunque sia a otto anni si dicono devi prendere i farmaci a vita non è una bella prospettiva o comunque se non a vita i tuoi genitori non si sono opposti? no assolutamente anche perché comunque sia considera che c'è una certa familiarità anche nella mia famiglia di queste problematiche perché comunque sia anche anche la condizione neurodivergente ha una forte componente genetica e quindi nella tua famiglia era già conosciuta come condizione? non la neurodivergenza ma comunque sia le condizioni psichiatriche erano già state affrontate da mia madre da mio nonno mio nonno fu uno dei primi pazienti psichiatrizzati a Pisa cioè quindi nel senso per fortuna l'ho sempre detto i miei genitori erano persone molto ferrate sull'argomento ma oggettivamente al tempo c'erano molti limiti e loro c'erano affidati ai migliori eppure i migliori hanno sbagliato è oggettivo ma hanno sbagliato anche perché in Italia a quei tempi la formazione diciamo era quella quindi se non eri diciamo se non appartenevi alla retorica del bambino o del bambino appunto autistico no stereotipato o del bambino a DHD stereotipato erano condizioni che non venivano nemmeno prese in considerazione lontanamente proprio stereotipato intendi soprattutto sull'autismo quindi quello con deficit cognitivo sì sicuramente oppure del bambino a DHD ipercinetico che è anche un po' aggressivo che non riesce a star fermo quando la DHD non è solo cioè arriviamo a questo punto raccontaci un po' quindi come tu hai capito di avere la DHD e quali sono state le sintomatologie che magari sono state non rilevate quando eri piccoli allora sì io quando parlo di DHD e comunque anche di autismo cerco di non usare parole troppo patologizzanti quindi se mi sentirai magari non parlare di sintomi o che è proprio una scelta diciamo lessicale che faccio per diciamo per allontanare un po' la negatività che alleggia intorno a queste parole allora io ho sempre avuto tantissimi dubbi nella mia vita però ero anch'io vittima dello stereotipo io stessa quindi dicevo no è impossibile che io comunque sia mi ritrovi in questa condizione perché io sono perché io faccio perché io in realtà ero appunto vittima dello stereotipo e mi è successo leggendo dei libri ma appunto di riconoscermi tantissimo in dei protagonisti soprattutto autistici perché sinceramente di libri di persone ADHD che cioè insomma palesi che lo dicono non ho mai letto nessuno magari esistono mi informerò al riguardo e diciamo che l'epifania è arrivata grazie a una persona che ho conosciuto che non sapevo che fosse autistica che mise un link su facebook diciamo sembra stupido dirlo così però aprendo questo link diciamo che ho avuto proprio un'epifania forte che mi ha un po' turbato perché comunque sia a 28 anni mi rimettere no tu cosa che diceva questo link come scusa cosa diceva questo link cosa hai visto è un link che praticamente parlava è anche un link che adesso magari dopo anni di attivismo non consiglierai nemmeno per i primi link per approcciarti alla condizione parlava diciamo di autismo femminile che è anche una cosa che a me non piace usare perché come saprai sì ci sono delle come si dice delle statistiche no però ci sono anche persone femmine che hanno un fenotipo più maschile di autismo quindi è una generalizzazione diciamo però io rientro perfettamente nello stereotipo diciamo della donna autistica quindi quando lessi questo quest'articolo cioè rimasi proprio questo mi ha seguito tutta la mia vita cosa è successo cioè ti sei riconosciuta al 100% e quali erano appunto le caratteristiche che descriveva questo articolo che ti sembravano uguali alle tue allora innanzitutto le passioni che sono le mie diciamo i miei interessi assorbenti più grandi anche se poi ce ne aggiungono altri che sono appunto la lettura il disegno e gli animali il fatto di sentirsi più capiti dal mondo animale che da quello umano il fatto appunto di essere bambine molto introverse comunque sia sognatrici che per questo ti ripeto io non ero sicuramente lo stereotipo di bambina di HD perché dove mi mettevi io stavo io viaggiavo con la testa cioè il mio ADHD è una componente più mentale anche se a livello di gestualità e di cose che faccio durante il giorno si esprime anche diciamo in altre cose però si parlava di queste caratteristiche del fatto di di non sentirsi nemmeno rappresentati diciamo dallo stereotipo dell'essere donna mi ricordo che caratteristiche in quel caso quindi tu ti sei rivolto a qualcuno per la diagnosi sì allora prima ho fatto questa diciamo mia amica mi ha consigliato di fare per prima un test diciamo online che ovviamente non ha alcun valore diagnostico però un primo approccio diciamo per vedere un po' no si chiama il RADS che poi è quello che ti fanno anche in serie di diagnostica lo feci e venne un punteggio bello altino quindi già fatto da sola e quando poi lo feci in serie di diagnostica venne ancora più alto quindi lì mi iscrisse a questo gruppo facebook che è proprio un gruppo di supporto anche per chi si vuole approcciare a una diagnosi perché non è facile comunque sia trovare i professionisti che siano esperti proprio in autismo e in ADHD in pazienti adulti perché devi immaginare che comunque sia abbiamo passato una vita a mascherare questi tratti quindi è impensabile che adesso li mostriamo tutti insieme dopo la diagnosi ci liberiamo un po' però è difficile capito anche per noi stessi no? subiamo anche noi la sindrome dell'impostore io stessa infatti finché non ho avuto diagnosi scritta su carta non mi convincevo no? e quindi vabbè l'ADHD poi è venuto insieme proprio alla diagnosi d'autismo anche se la componente di ADHD mi era stata già preannunciata anche dai miei psichiatri quando ero più giovane ecco mentre l'autismo assolutamente no quindi insomma tu sei nata in questo centro diagnostico ti hanno fatto il test e quindi hai ottenuto un punteggio che poi ti ha portato alla diagnosi invece la componente di ADHD come è stata diagnosticata? allora quella in realtà è stata una diagnosi diciamo che mi hanno come si dice integrato quella precedente non mi hanno fatto alcun test diciamo che è abbastanza palese era già stato visto in precedenza e quindi mi hanno confermato quella diagnosi lì ecco mentre in quel caso scusami no no dicevo i test dell'autismo sono stati un po' di più ecco ma quella diciamo è stata più una conferma ecco no volevo chiederti scusa i tratti quindi della di ADHD che ti erano già stati diciamo individuati parzialmente e che poi sono emersi con chiarezza quali sono esattamente? allora il più grosso diciamo forse sì posso dire problema che avevo era il perdere le cose cioè io perdevo qualsiasi cosa ma roba proprio patologica nel senso no perdo un attimo le chiavi anche ora passo metà del tempo metà della giornata a cercare cose ma da piccola era proprio una cosa assurda perdevo qualsiasi cosa arrivavo in ritardo non avevo assolutamente idea di prendermi un appuntamento e rispettarlo ero comunque sia molto come si affaccendata no nel senso sempre in movimento ma anche a livello proprio di impegni di cose ma soprattutto quello di perdere le cose era diventata una cosa assurda perché mi davi in mano una cosa e la perderei dopo un secondo e diventava invalidante anche per me perché comunque sia non mi fidavo più di me stessa e a scuola perché specifichiamolo scusami scusami ti interrobo giusto per specificare una cosa e per chi non lo sapesse la DHD è un disturbo che fai con un deficit dell'attenzione e un'iperattività quindi tu hai descritto due sintomatologie appunto che possono essere connesse a questo tipo di problematica ovviamente non tutti quelli che perdono le cose hanno per forza la DHD ci sono ovviamente dei tratti molto estremizzati nel tuo caso appunto come dici già c'erano quando eri molto piccola e col tempo quindi sei riuscito a ovviare in qualche modo prima mi dicevi sono riuscito a nascondere alcuni tratti questi tratti riuscivi socialmente a nasconderli? purtroppo sì mi sento di dire perché il masking è un processo comunque sia deleterio per la persona perché anche se il masking è una cosa che fanno tutti neurotipici e non nella persona neurodivergente e il masking snatura la personalità e spesso fa sì che la persona neurodivergente debba limitare determinati comportamenti che invece sono funzionali alla alla sua persona mi viene in mente lo stimming mi viene in mente appunto a scuola il mio problema sì come questo che sto facendo adesso praticamente sono le cosiddette stereotipie no? in linguaggio patologico diciamo sì medico che poi hanno diverse gradazioni diverse intensità diverse manifestazioni e purtroppo possono sposare anche nell'autolesionismo ma quello è il caso diciamo più estremo tu hai mai avuto se posso chiedertelo no io no per fortuna no a meno che ovviamente durante i meltdown sì io mi sbriciolavo le mani nel muro però non erano per farmi male cioè era diciamo una conseguenza del fatto che quando sono in meltdown diciamo che il cervello è praticamente sconnesso e si fanno cose perché meltdown è anche questo per spiegarlo scusa perché tu usi tanti termini tecnici e fai benissimo però è per dirla in termini semplici un crollo delle energie nervose dato da un sovra diciamo una sovrastimolazione poiché le persone con appunto la neurodivergenza che è a Nicole fanno fatica a selezionare le informazioni quindi ne sono in qualche modo soverchiate quindi quando hai questo meltdown sostanzialmente non hai più controllo perché non hai più energie per gestire questi stimoli oppure può essere anche emotivo però il meltdown è diciamo che visivamente è più un'esplosione capisci cioè mentre quello che dici te forse è lo slowdown quindi il meltdown è proprio diciamo il tipico sicuramente purtroppo l'avevi visto tante mamme fanno questo una cosa che sono veramente contraria filmare il proprio filo autistico mentre queste crisi che in realtà si chiamano meltdown appunto ed è diciamo appunto un fenomeno che si verifica per queste due motivazioni quindi o sovraccarico sensoriale o emotivo o entrambe le cose quindi sono a disagio sono in un contesto mi hanno magari detto una cosa brutta in più c'ho delle luci che mi danno fastidio tante persone che mi parlano e odori che non mi piacciono il mio cervello si disconnette e ovviamente il meltdown come ogni cosa di cui parlo è soggettivo cioè ci tenevo a chiarire questa cosa che è una diciamo una premessa che faccio sempre e che mi sono dimenticata quando parlo delle cose che ho vissuto io io parlo per me perché ogni condizione di cui parlo è diversa per ogni persona non è che se io comunque parlo di una determinata manifestazione che ho avuto o di un mio determinato modo di vivere la mia condizione io stia parlando per tutti così come appunto dicevi te prima tutte le persone hanno dei tratti autistici o ADHD o di qualsiasi disturbo avere dei tratti non significa avere quella condizione o quel disturbo è averne tanti averne intensi che fanno sì che la tua vita venga diciamo infisata da questi che fa sì che tu poi abbia questa posizione quindi questo sì perché a volte uno pensa che per esempio appunto l'autismo sia bianco nero no in realtà è appunto come dici tu una forma di neurodivergenza quindi sostanzialmente il tuo cervello funziona in maniera diversa magari da quello più comune però appunto anche le persone diciamo cosiddette neurotipiche possono condividere alcuni tratti senza però arrivare alle problematiche che vive una persona che magari ne integra di più infatti si parla anche di più tratti che possono nel tuo caso appunto più diagnosi che si sovrappongono però ecco una domanda che ti è arrivata in chat e che mi chiedevo anch'io appunto la diagnosi uno potrebbe dire vabbè ma tanto non essendoci una cura appunto perché non essendo poi di fatto una patologia che si curano i famigli ma appunto un funzionamento cerebrale che può dare dei problemi quindi necessita di attenzioni di supporto in alcuni casi però non c'è una cura ecco uno potrebbe dire la diagnosi non serve a niente no quindi che ti serve anzi magari ti autoidentifichi ancora di più invece la domanda è come ti ha aiutato la diagnosi allora mi ha aiutato tantissimo soprattutto a liberarmi del senso di colpa personalmente il senso di colpa di sentirmi appunto diversa è come se avessi un po' abbracciato quella bambina spaventata che si sentiva un'aliena e gli avessi dato finalmente una spiegazione a tutte le sue domande questa è stata la sensazione che ho avuto inizialmente e che ho tuttora poi ovviamente è stata una continua scoperta di me stessa vi spiego meglio determinati caratteristiche come ti ho detto prima che una persona sopisce fin da quando è piccolo quindi dall'età scolare io ho imparato a chi determinati con i miei comportamenti non erano socialmente accettati e quindi li sopivo quindi nemmeno io me li riconoscevo più è stata una riscoperta proprio di me di quello che mi piace davvero di quello che mi fa stare bene una scoperta delle persone intorno a me del mio passato di tante cose che non mi spiegavo di tanti disagi che ho vissuto e che non riuscivo a spiegarmi nemmeno io se non la chiave appunto della neurodivergenza e poi ovviamente la consapevolezza cioè la diagnosi è un punto di partenza non è un punto di arrivo è proprio il punto da cui una persona lavora meglio su se stessa quindi io penso che ogni persona debba lavorare su se stesso per migliorarsi ma non per raggiungere chissà quegli obiettivi ma semplicemente per conoscersi e stare meglio non si può stare meglio se non si ha tutti se non si hanno tutti i tasselli per conoscersi quindi faccio il mio esempio io sono stata sempre curata con una paziente appunto ossessivo compulsiva ma io non sono solo questo e sono diversa da una persona neurotipica disturbo ossessivo compulsiva ok quindi è una cosa che serve sapere per tantissimi motivi in più sì forse secondo me il più grosso il più grosso motivo è proprio liberarsi l'abbracciare se stessi in toto sì sì appunto dare un nome anche a quello che ti succede però ecco secondo te visto che prima hai parlato di usare termini non patologizzanti siccome come tu ben sai insomma la DHD ma anche l'autismo soprattutto che è più conosciuto viene identificato poi dalle persone come una patologia quindi tu magari dicendo sono autistica le persone ti approcci in un certo modo ecco quindi da questo punto di vista invece la diagnosi socialmente ti ha portato maggiore stigma allora no nel mio caso no comunque sia la diciamo che la reazione che ho più volte più che il fatto dello stigma è proprio l'incredulità quindi no tu non sei autistica perché il vero autismo è altro ok quindi non viene identificata nello stereotipo dell'autistica no ovviamente non da tutti ci sono tantissime persone che anche intorno a me grazie alla mia diagnosi si sono interessate e hanno capito di più tante persone a cui giustamente non frega niente perché non è che io sia cambiata o sia una persona diversa quindi che hanno detto ok cioè va benissimo così tanti che sono più curiose tanti che appunto magari si sono dette scettiche no però ovviamente a meno che tu non sia un psichiatra appunto c'è qualcuno che ha rifiutato no questa informazione l'ha presa come magari sai qualcosa che sì vabbè dai adesso dici di essere autistica vabbè assolutamente tantissime persone che sicuramente non me lo avranno detto in faccia ma che sono sicura che ci siano ma anche tante persone intorno a me all'inizio proprio perché mi rendo conto che è stata una bomba no un po' quella lanciata da me poi nell'iper focus del momento che ero presa dalla foga di scoprire sempre più cose io non parlavo d'altro cioè per bene un anno non ho parlato d'altro e quindi come al solito hanno detto questa è un'altra delle tue fissazioni che è un tratto avistico poi fa parentesi perché sì era davvero una delle mie fissazioni ma proprio perché sono autistica quindi anche la mia famiglia inizialmente era scettica perché appunto è come ti ho portato dai migliori psichiatri della Toscana e ora ti autodiagnostichi da sola prima io ovviamente glielo dissi anche prima di avere la vera cioè la diagnosi ufficiale poi ovviamente hanno capito e stanno continuando a capire perché comunque sia ci sono anche persone che hanno bisogno di più tempo per processare determinate informazioni e non si può pretendere che tutte le le vogliano processare subito questa è un'altra cosa che ho capito dalla diagnosi ecco c'è anche un rischio di iperidentificazione nel diciamo nella neurodivergenza nella neurodiversità nel magari ricollegare anche tratti caratteriali che magari non hanno a che fare con l'autismo all'autismo come dire io non so ho questo carattere tutto dipende dall'autismo sicuramente c'è come in tutte le cose mi viene da dire come in tutte le diagnosi mi è capitato di vedere alcune persone che si adagiano su questa condizione ma mi sento anche di dire che la maggior parte delle persone che invece conosco della community ma la stragrande maggioranza assolutamente no vivono la diagnosi proprio come una scoperta di sé no? un migliorarsi non un adagiarsi proprio il contrario quindi ho fatto 100 fino ad ora ora posso fare 120 con i mezzi che ho quindi per esempio io sono una che mi sono laureata ho sempre lavorato ho sempre frequentato miliardi di contesti differenti lo faccio ancora lo faccio con delle modalità forse ora a me più funzionali che mi rendono ancora più felice quindi sì ovviamente ci può essere questo come si dice questo effetto collaterale come per tutto però non è un rischio che io vedo reale nel senso non è una cosa che ho notato che ne conosco tante comunque di persone autistiche abbiamo creato anche la nostra comunità anche le ADHD più che altro questo vedo il concetto di neurodiversità come che hai nominato prima è proprio il fatto che tutti noi siamo diversi cioè tutte le persone tutti i cervelli sono diversi quindi è impossibile identificarsi pienamente in una condizione per questo che io prima ti dicevo io parlo per me non parlo per le persone ADHD non parlo per le persone autistiche è un cappello diciamo poi all'interno di questo cappello è uno spettro sì esatto poi magari ci sono persone che appartengono a questo aspetto però lo sono da una parte alcune che si ritroveranno in quello che dico altre zero e magari abbiamo le stesse diagnosi capito certo sì 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 no chiaro tu parli appunto di attivismo di comunità come e perché hai deciso di avvicinarti anche alla divulgazione e soprattutto è utile no immagino dal tuo punto di vista poter parlare di questi temi sì allora il motivo principale è stato proprio il fatto di voler allontanare lo stigma no il più possibile di fare in modo che i bambini comunque del domani non vivessero quello che ho vissuto io ma anche gli adulti perché anche per gli adulti è importantissimo raggiungere la diagnosi quindi se invece se adesso c'è molta più consapevolezza rispetto ai bambini eh per fortuna anche se non siamo a livelli che ci ospitiamo eh per gli adulti invece c'è proprio l'abbandono totale come se appunto queste condizioni no nel tempo sparissero c'è un po' questa questo luogo comune eh che è sbagliatissimo ovviamente si esprime in maniera differente quale disturbo si esprime in maniera uguale in età infantile e in età adulta nessuno o disturbo o condizione no quindi è ovvio che si cambiamo crescendo come cambiano tutte le persone però non smettiamo di essere ADHD di essere persone autistiche perché appunto è il nostro funzionamento neurologico e quindi tante persone adulte ehm io inizialmente scrissi un articolo diciamo e questo articolo ha girato tanto e ha aiutato tantissime persone da quello diciamo che ho avuto la spinta per non fermarmi me l'hanno anche chiesto mi hanno detto continuo a parlare e così ho fatto ehm appunto magari in degli spazi come può essere questo il tuo eh ho fatto dei progetti con altre persone autistiche e poi la cosa forse più mh importante a livello nel senso pratico ehm il fatto di partecipare a dei corsi di formazione degli insegnanti di sostegno della mia città dove appunto porto la mia esperienza come come faccio qui eh niente di ovviamente non non parlo di non sono una professionista non mi mettere mai a dare lezioni su cose parlo della mia esperienza soprattutto scolastica e delle cose che che avrebbero potuto aiutare me e che magari potrebbero aiutare anche altre persone neurodivergenti che la prima è la comprensione quindi niente di tanto difficile sì 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 esatto ridurre un po' lo stigma che c'è su questo tipo di appunto neurodivergenza ti chiedono ultime domande ti faccio poi ti lascio perché sei stata molto esaustiva quindi ti ringrazio ti chiedono se appunto ci sono dei vantaggi ecco nell'essere ADHD autistici perché appunto anche a livello sociale magari si tende a pensare che una persona autistica abbia dei deficit no? poi non è necessariamente così quindi non so anche magari dopo la diagnosi in che cosa ti senti magari di avere una marcia in più rispetto ad altre forme? allora è un discorso un po' pericoloso secondo me perché quello che vorrei evitare è proprio la retorica del super eroe autistico che è sbagliata tanto quanto quella del appunto della persona con deficit no? ci sono sia appunto delle cose forse negative e altre positive appunto quelle positive sono appunto il fatto di interessarmi a tantissime cose di avere una memoria formidabile per le cose che mi interessano dell'ADHD di riuscire a fare tante cose contemporaneamente anche se poi anche questo ha i suoi lati negativi no? perché poi quando ne faccio troppe magari entra l'ansia no? di aver iniziato troppi progetti ma dall'altra parte invece mi piace no? questa cosa di me il fatto appunto cosa mi può il fatto di essere molto sensibile è un'altra cosa di cui che mi piace molto della mia condizione anche se anche questo è sui lati negativi tu hai parlato sulla sensibilità hai parlato di una sensibilità morale quindi diciamo sull'aspetto dell'ingiustizia ma hai immagino una forte sensibilità legata all'ambiente agli animali no? giusto? quindi questo ti ha portato anche ad avvicinarti all'attivismo ambientalista animalista sì nel senso che più che altro faccio volontariato in canile non mangio carne però non è che sono diciamo un esponente attivista di questi campi nel mio piccolo faccio il mio però sì soprattutto la sensibilità anche oltre a questi temi anche nel piccolo ecco mi ritengo una persona che sensibile anche verso le altre persone no? un altro un altro stereotipo che che c'è della persona autistica è proprio questo che che non abbia empatia la realtà è che l'empatia ce l'abbiamo forse anche troppa è quel problema il fatto è che è un'empatia emotiva spesso e non cognitiva che sono due cose diverse quindi sentiamo il dolore dell'altro spesso non riusciamo nemmeno a capirlo perché è così intenso che non sappiamo manco da dove arrivi però è una cosa molto importante che personalmente sia nel mio lavoro che che a livello personale è una cosa che mi gratifica tantissimo comunque sia il fatto di notare delle cose che gli altri non notano il fatto di avere questo mondo fantastico nel mio cervello che comunque sia non mi lascia mai annoiata no? questa serie di film mentali che si susseguono che a volte mi possono stancare mi possono esasperare ma che la maggior parte del tempo mi divertono e mi mi auto sollazzano non so come dire può essere qualcosa di simile al cosiddetto maladaptive daydreaming cioè il disturbo della fantasia compulsiva sni nel senso più che fantasia compulsiva il fatto che noi persone neurodivergenti la maggior parte di noi pensa per immagini quindi ogni cosa di cui parliamo ogni cosa che mi viene detta io me la immagino e magari da questa immagine mi parte un altro collegamento di pensiero che io comunque vedo in immagine quindi più che io che mi fantastico cose sono proprio immagini che mi arrivano da contesti esterni quindi una persona mi racconta un aneddoto e io mi vedo il film proprio nella testa ok un'altra domanda che è arrivata che non ho ignorato ma stavo cercando di seguire un filo è pensi che l'arte o comunque la creatività sia maggiormente correlata ad autismo e ad hd tu prima ne hai in qualche modo accennato non so se puoi approfondire sì allora penso di sì cioè penso che essendo della condizione neurodivergente propria no della dell'ipersensibilità l'ipersensorialità questa si esprime ovviamente anche nell'arte quindi anche tutte le condizioni sinestetiche che hanno tantissime persone neurodivergenti fanno sì che in linea di massima abbiamo una sensibilità diversa anche a livello di colori di di texture di odori di tutto quello che concerne la sensorialità e che poi fa parte dell'arte no che cos'è l'arte se non questo quindi sì sicuramente sì tantissime persone tantissimi artisti di qualsiasi campo non solo pittorico grafico ma anche appunto letterario cinematografico sono persone neurodivergenti tante di queste diciamo che sono quasi risapute esserlo ecco anche di Kubrick lo dicono in tanti anche se non è una cosa che lui ha mai come si dice confermato così come mi viene in mente Lovecraft anche se ovviamente non c'è più e sono diagnosi postume da lì ma tantissimi cioè trovatemi un artista magari neurotipico forse è più facile ecco intanto ringrazio il raid di Morte Bianca che ci ha raidato appunto ci ha supportato un'altra domanda e poi arriviamo alla conclusione perché ti ho un po' torturato volevo chiederti sì appunto sempre sull'aspetto artistico qual è la forma d'arte che più ti piace per esprimere visto che tu hai parlato molto di immagini immagino che sia un'arte soprattutto visiva sì allora io personalmente disegno illustro e faccio anche tatuaggi quindi sicuramente questo ma ovviamente da fruitrice mi piace tantissimo anche l'arte cinematografica anche leggere tantissimo quindi non disdegno nessuna forma di arte ovviamente anche la musica anche se sono molto più cioè l'ascolto diciamo in determinati contesti non non ne faccio un uso smodato come invece di film serie tv libri e ovviamente disegni tatuaggi ok perfetto mi era aspettavo ma giusto per conferma e ultima cosa quindi se qualcuno oggi magari si riconoscesse in quello che hai detto cosa consigli di fare come primo passo allora come primo passo appunto consiglio di andare sulla piattaforma di neuroescapes.com e di fare questo test che si chiama RA-A-A-Z si qualcuno l'ha scritto e quindi fare questo test per avere un'idea comunque sia ovviamente è difficile farselo da soli proprio per i motivi che dicevo prima quindi tante cose di noi stessi non le riconosciamo dopo anni di mascheramento però già uno si può fare un'idea poi i passi che feci io dopo è appunto unirmi a questo gruppo facebook che si chiama Asperger Adult Italia anche se appunto la dicitura Asperger non è più in uso però è rimasto questo nome e ovviamente guardando anche le altre esperienze in questo gruppo si entri tramite il punteggio del Razz quindi se uno ottiene un punteggio alto può entrare e ovviamente per come si dice per salvaguardare la community uno può potenzialmente mentire ovvio ovvio però diciamo che per ora non penso che sia va beh insomma indicativamente non fate ecco non diamo idea e quindi in questo gruppo comunque sia ci sono tantissime testimonianze tantissimi topic comunque che una persona può andarsi a leggere e può ritrovarsi perché appunto magari non si è ritrovata in quello che ho detto io però può ritrovarsi in quello che ha detto un'altra persona e questo può aiutarlo a arrivare poi a una diagnosi certo ti chiedono se sei attiva anche su Instagram sì ho un profilo dei tatuati e uno anche mio personale potete ma posso dirlo puoi dire entrambi se vuoi certo sì sì ok allora quello dei tatuati si chiama moonmik tattoo mentre l'altro si chiama wolfimik trattino basso 92 quello appunto se qualcuno li mette anche se qualcuno vuole farti qualche domanda in chat ovviamente sono sempre disponibili anche per appunto per sapere come muoversi anche per la diagnosi chiedetemi pure mi fa piacere grazie mille davvero sei stata molto esostiva è vero che la tua è la tua testimonianza però insomma chi vive questa esperienza raccoglie un sacco di informazioni insomma sì diciamo sei un esperto di fatto poi poi la cosa più importante è che non non generalizzi giustamente dici questa è la mia esperienza poi effettivamente alcune cose possono essere più o meno generalizzate altre meno comunque dai sei stata gentilissima guarda io ti ringrazio appunto se qualcuno ti volesse seguire lo può fare su Instagram e magari ci risentiamo in futuro non si sa mai volentierissimo grazie Marco ciao buona serata a te ciao 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 ricorda ciao ciao